Cimo SRL nasce nel 1988, sulla base dell'esperienza quarantennale della ditta Barrettoni Gianfranco, che opera ancora oggi come negozio di forniture di attrezzature e prodotti di consumo per orafi in Valenza. Il contatto quotidiano con le esigenti realtà produttive nell'ambito della gioielleria di alto livello convince gli eredi di Barrettoni Gianfranco alla creazione di una struttura in grado di progettare e costruire attrezzature uniche e specifiche, dedicate a soddisfare le esigenze della moderna fabbricazione orafi. Ecco quindi Cimo, che si specializza nella produzione di mescolatori sotto vuoto per il rivestimento, le famose macchine St. Louis, vera e propria evoluzione tecnologica del convenzionale sistema di preparazione del rivestimento, macchine oggi presenti in tutti i laboratori e fabbriche per la microfusione a cera persa. Nel corso degli anni, la qualità e l'alta gamma di produzione ha caratterizzato la presenza di Cimo sul territorio nazionale ed internazionale, dove i prodotti sono forniti ed assistiti direttamente con una esperta e selezionata rete di rivenditori diretti. Il sollevatore e distributore per il gesso, Dispenser Lift, i banchi di lucidatura Angel con il brevettato sistema di recupero del metallo prezioso a filtrazione acqua-aria e le recentissime MixCast, fonditrici per un casting accurato, rappresentano un effetto della continua ricerca tecnologica ed innovativa alla base di tutte le espressioni produttive Cimo. La continua evoluzione e miglioramento dei prodotti Cimo sono le vostre migliori alleate nella crescita qualitativa della vostra produzione Orafa. La continua evoluzione e miglioramento dei prodotti Cimo.